parte per zetti e in compenso arriva elisabeth taylor girerà in italia alcune scene del film cleopatra la compagna eddie fisher il preferito dei suoi mariti e dei suoi infermieri in italia la felice coppia abiterà una villa sulla via apia antica non è dato sapere quanti locali abbiano affittato si sa soltanto che le stanze da bagno sono sette cleopatra si trattava bene e adesso cominciamo a capire anche noi come mai il film sia già costato qualche miliardo senza che il regista abbia ancora potuto dare un giro di manovella